Stiamo per concludere il seminario degli operatori del benessere Translational Music, un'emozione veramente fortissima qui al Lago di Garda con tutta questa acqua, questo silenzio così particolare che ci ha accompagnato e ha creato il substrato per dei piccoli semini d'amore che stanno germogliando. Vedere tutte queste cellule, così diverse tra di loro, arrivare da ogni parte d'Italia, il medico con il maestro di yoga, con l'operatore shatsu, il massaggiatore, l'insegnante, tutte queste persone così diverse, l'artista che hanno un linguaggio in comune, possono comunicare con questo linguaggio universale che è quello della musica per scoprire qualcosa di più dentro di sé, scoprire innanzitutto come funzionano le loro cellule, come le loro cellule ricevono informazioni dalla musica, dal suono, come le loro cellule, le nostre cellule comunicano tra di loro, la cellula del cuore con la cellula dell'osso. Ognuno di loro crea come un organo di questo organismo nuovo che si è formato oggi che è l'organismo degli operatori del benessere Translational Music. In questo organismo si sente come l'armonia, un'armonia, una coerenza, una salute generale di questo organismo è data proprio dalla comunicazione con questi linguaggi diversi, ma con questo sottile filo rosso in comune che è quello della musica, in cui un organo come quello del cuore riesce a comunicare con un organo così diverso come può essere quello del polmone o quello del cervello. Un insegnante riesce a comunicare con un medico, con un'infermiera, con un artista. E questo è molto emozionante da vedere con questa panoramica dall'alto in cui queste persone arrivano, ognuna nel suo mondo, ognuno nella sua realtà, ognuna con il suo linguaggio, ognuno con le sue modalità di interazione con gli altri e poi in questi due giorni e mezzo si è visto come questo modello di integrazione si è completamente trasformato e quindi come il medico resta sconvolto da quanto si può comunicare con un abbraccio, da come tutta la sua acqua riceve delle informazioni nel momento in cui sta abbracciando, cambia la biochimica del suo corpo. Questi seminari residenziali di Translational Music danno la possibilità in questo modello in cui possiamo stare insieme, mangiare insieme, dormire insieme, ascoltare insieme, vivere delle esperienze profonde e anche passare da alcuni momenti molto di cuore in cui abbiamo delle visioni molto grandi a dei momenti invece più mentali, più scientifici in cui mi sembra di ritornare un attimo in laboratorio in cui lavoriamo sul nostro cervello, lavoriamo sulle nostre credenze, lavoriamo su quello che riusciamo ad interpretare del mondo, ognuno nel nostro modo. Viviamo continuamente dei cambi di prospettiva molto forti, passiamo dalla prospettiva dello scienziato alla prospettiva dell'artista alla prospettiva della spiritualità dall'alto e quindi vediamo come una stessa credenza, una stessa conoscenza, una stessa esperienza la possiamo vivere in modo completamente diverso. Abbiamo vissuto questa volta l'esperienza della musica, l'esperienza della musica al pianoforte, al flauto, da sotto il pianoforte, toccando il pianoforte oppure danzando vicino al pianoforte, abbiamo vissuto l'esperienza dell'acrobata che col tempo della musica traduce la musica in volteggi al trapezio, abbiamo vissuto l'esperienza della traduzione della musica in acquerello e in colore, della mia mamma Vilma e di Beatrice che hanno trasformato la musica in colore e abbiamo visto come il colore la forma da origine ad altra musica e tutto questo gioco ci consente di avere dei salti di consapevolezza, di evoluzione e del vedere come l'uomo in questi ultimi anni sta giocando con queste diverse esperienze scientifiche, artistiche o spirituali per accedere a dei livelli di conoscenza e di consapevolezza più alti. Quindi in questo cammino che si sta per concludere di questi tre giorni accompagnati dalla meraviglia del lago di Garda e dai riflessi su questo lago, dal silenzio particolare, molto nutriente, molto fertile di questo lago, stiamo vivendo delle esperienze così profonde tra persone che sono arrivate con una faccia e stanno andando via con un'altra, un allineamento del viso che passa dalla mente al cuore, è molto bello vedere gli occhi e l'espressione di queste persone cambiare in questi pochi giorni in cui ritorneranno da domani nella loro vita quotidiana, nella loro professione e proveranno ad utilizzare Translational Music in modo diverso, in modo più consapevole, in modo più creativo, sapranno come utilizzarlo con i loro pazienti, con i loro clienti, sapranno come utilizzarlo su di sé e come creare quella sinfonia d'anima che si crea nel momento in cui la musica confeziona e veste una nuova realtà.